buongiorno a tutti benvenuti alla conferenza stampa di ostaggi una pellicola di eleonora evone che sarà su sky prima fir la premiere dal 15 di maggio siamo in tanti e quindi insomma vi presento tutti e poi cercheremo naturalmente di di fare di fare domande a tutti e poi di lasciare le domande ai colleghi che ci stanno seguendo allora eleonora intanto buongiorno buongiorno che sei la regista e interprete di questa di questa pellicola eleonora evone gianmarco tognazzi salve buonasera vanessa incontrada la signora elena cotta buongiorno buongiorno e francesco panno fino ciao a tutti buongiorno scusate siete sparsi ionis bashir buongiorno alessandro aber dulcis in fundo no no non per in fondo e siamo solo all'inizio adesso altro angelo longoni che vicino a me sceneggiatore e produttore anche di wake up buongiorno 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 angelo nicolò agliardi che a poche come tutti voi naturalmente bisogno di presentazioni e poi ci farai anche ascoltare qualcosa di particolare e poi in ultimo ma perché gli do subito la parola antonio adinolfi direttore area cinema di fenix entertainment allora antonio introducici un po questo questo lavoro come mai e perché avete deciso di puntare su questa pellicola allora buongiorno fenix entertainment insieme a wake up produzioni hanno dato vita a questo film che si chiama ostaggi che come ha detto denise sarà su sky per mia prima fila da sabato quindi dal 15 maggio per la visione per tutti noi abbiamo avuto la sceneggiatura un po di tempo fa leonora e angelo ci avevano portato la sceneggiatura che tra l'altro è tratta da una loro opera teatrale di cui angelo aveva fatto sia la sceneggiatura che la regia e noi ci siamo subito innamorati di una storia se vogliamo che può essere inserita in un contesto di commedia un po all'italiana una commedia sociale c'era qualcosa che andava detto che andava raccontato e questo ci ha subito molto colpito c'era un tono divertente divertito ma allo stesso tempo la necessità di raccontare una una difficoltà sociale che non vi svelo perché lo vedrete voi con i vostri occhi guardando il film siamo molto contenti di come è venuto il film siamo molto contenti di aver tenuto a battesimo una regista insomma un esordio di una regista donna come leonora ivone che per me tra l'altro è anche una cara amica e credo che sia stata molto brava un cast devo dire non perché sono qui molto coeso e questo si vede si vede guardando il film e il film è anche impreziosito dalla colonna sonora di agliardi e che ha scritto l'intera colonna sonora e la canzone che il tema del film davvero molto molto bella agliardi è recentissimo vincitore insomma the golden globe candidato oscar insomma è questo ci ha ci rende molto ci rende molto orgogliosi siamo molto contenti e secondo me da quel tocco finale ad una storia è un film già molto belli volevo tra le altre cose anche ringraziare la film commission calabria perché il film è stato interamente girato a rende con il sostegno del film commission per cui l'operazione è stata appunto fenix entertainment amministratore porto i saluti dell'amministratore delegato riccardo di pasquale del produttore esecutivo anche i vomicioni sono un'intera squadra al lavoro su questo film che insieme a wake up produzioni ha fatto secondo noi un film necessario che andava raccontato mi taccio e lascio la parola a te grazie la parola a me che in realtà la do subito la do subito ad angelo un'introduzione giustissima insomma ha colto subito nel segno il passaggio dal teatro al cinema che cosa vi ha fatto che cosa va spinto a credere che questa storia così attuale naturalmente fosse giusta e adatta anche al cinema ma intanto quando io ho fatto questo spettacolo Eleonora era in tournée con un altro e quindi non ha seguito l'allestimento per la prima volta è arrivata a spettacolo finito e appena l'ha vista detto no ma di questo bisogna fare un film allora siccome lei aveva fatto un cortometraggio che era la sua opera prima che ha avuto un grande esito ha vinto tantissimi premi anche internazionali le ho detto guarda questa sarà il tuo la tua opera prima il tuo primo lungometraggio e ci siamo messi all'opera per scrivere una sceneggiatura che pur mantenendo l'impianto di unità di tempo di luogo che aveva lo spettacolo teatrale avesse anche una portata cinematografica introducendo altri personaggi e abbiamo trovato nella nel comune di renda e cosenza una scenografia che ci conteneva avrebbe potuto contenerci perfettamente e in questo la collaborazione con la film commission calabria è stata estremamente proficua e siamo riusciti a girare tutto in questa location straordinaria che ci permetteva di avere la parte degli ostaggi e la parte della polizia e in questa storia si racconta il disagio sociale di ognuno di questi personaggi e del rapporto che questi hanno con l'istituzione l'istituzione viene metaforicamente impersonificata dal personaggio di Alessandro Abele a quello di Eleonora che sono le due facce della medaglia una diversa dall'altra dello Stato, dell'istituzione una aggressiva e un po' cieca alle esigenze dei nostri ostaggi e l'altra invece l'anima più gentile dello Stato quella che si vede un po' meno, quella a cui siamo meno abituati e che invece tende alla comprensione e alla mediazione e questo è quanto è raccontato nella storia partendo dal presupposto che il personaggio di Gianmarco Tognazzi, Marco, è un povero Cristo è stato vessato dallo Stato, dai problemi finanziari, dai problemi lavorativi e si trova a fare una follia un giorno di ordinaria follia in cui lui tenta una rapina maldestra e con il malloppo finisce in questa panetteria dove trova degli ostaggi improbabili decisamente improbabili con rispetto parlando naturalmente Eleonora, insomma, non solo eri alla regia ma recitavi anche un grande carico di responsabilità sulle tue spalle Assolutamente, devo dire che bisogna mantenere una lucidità e un distacco totale da quando si passa dietro la macchina da presa ad avanti la fortuna infinita che ho avuto è stata quella di prepararmi prima come ho già detto più volte, vivere vicino a una persona che lo faceva già mi ha permesso di interagire con il mezzo sia dietro che davanti preparandomi prima, scegliendo le inquadrature, scegliendo le modalità provando e cercando di capire come equilibrare i due ruoli Sicuramente lavorare davanti alla macchina da presa ha la possibilità di lavorare sulla psicologia del personaggio dietro devo dire che mi ha rapita tantissimo e quindi credo che piano piano vediamo come va questo Ma sei soddisfatta del tuo lavoro? Io sono molto contenta ma sono troppo di parte, sono entusiasta ho avuto la fortuna di essere, guardate un po', protetta da tutti loro perché ognuno di loro ha cercato da Angelo alla produzione alla Film Convention Calabria che ci ha messo nelle condizioni di girare in modo eccellente, sono stata protetta e accolta da ognuno di loro ogni personaggio ha ascoltato le mie esigenze e ognuno di loro mi ha regalato la possibilità di trovare la strada Perfetto, allora iniziamo a svelarli questi personaggi Gianmarco dobbiamo per forza iniziare da te Che cosa ti è saltato in mente di entrare, anzi prima di fare, lo possiamo dire, una rapina ma di rubare i soldi e poi di entrare nella panetteria D'accordo, quello è il momento di disperazione e di nervosismo tale che ti porta a fare un gesto in consulto che non è l'indole di Marco Santini, del protagonista è un uomo per bene, è un uomo che tiene la famiglia, che tiene soprattutto anche i suoi dipendenti e si ritrova in un sistema che conosciamo bene tutti quanti noi ognuno nel suo piccolo ha avuto delle problematiche di vario tipo che ti possono portare all'esasperazione quando non c'è una via d'uscita per riuscire ad assolvere ai doveri che hai nei confronti di terzi che appunto non sono solo la famiglia ma sono anche i tuoi dipendenti che sono una seconda famiglia se il datore di lavoro ha a cuore le persone che lavorano per lui e quindi un sistema che non ti permette via d'uscita ti può portare andare fuori di testa a fare un gesto in consulto che poi non essendo un professionista non prevedi mille variabili che ci possono essere nel fare questo gesto e a dover nel momento in cui ti rifugi come fa lui a prendere in ostaggio delle altre persone a doversi fingere credibile mantenendo uno stato di tensione in parte reale in parte come dire volontariamente quasi recitato per poter essere credibile anche con coloro che tu stai tenendo in ostaggio per far sì che chi è fuori a mediare con te possa credere che tu insomma sia realmente cosciente di quello che stai facendo in realtà poi scopriremo che il disagio e l'essere ostaggio da parte di chi lui prende in ostaggio è lo stesso disagio che lui vive nei confronti della società del mondo che lo circonda perché tutti siamo ostaggi di qualcosa è così tra l'altro la prima che si accorge che tu per fortuna naturalmente non sei un vero delinquente è Vanessa Vanessa tu proprio Luqui Luqui ha avuto un occhio bello mio no il bello di Ambra questo è un agio bellissimo il tuo grazie il bello di Ambra è questo credo che Ambra oltre al mestiere che fa che è una scelta perché prima con i giornalisti parlavamo è una scelta che lei fa un po' per ribellarsi a una società che lei fondamentalmente non accetta ed è una scelta condivisibile o no però e lo fa con estrema dignità è la cosa che mi piace di questo personaggio di quello che decide di fare nella sua vita ma questa grande capacità di capire chi ha davanti quindi Ambra inizia un rapporto con ognuno di loro diverso con Elena è protettiva con lui è più di comprensione di una vita che come lo si fa aiutare anzi dovrebbe essere lo Stato a proteggerlo ma non lo protegge lui che bisogna di è un testo da dei cazzo è così e l'ho detto io qualcuno lo deve fare è uno sporco lavoro è uno sporco lavoro e con Marco lei capisce subito chi ha davanti che è una persona ovviamente buona che si ritrova in una difficoltà di vita a volte nella vita ci succedono delle cose che non mettiamo no? in conto però succedono e quindi e lei capisce questa cosa e a volte lo aiuta altre volte lo mette in difficoltà ma secondo me lo mette in difficoltà per farsi che lui si renda conto di quello che sta facendo quindi è un personaggio molto completo quello di Ambra con Alessandro e Eleonora praticamente non ci siamo visti perché abbiamo girato ma non girato quindi non posso dire niente non posso dire niente allora se siete d'accordo prima di continuare con i personaggi vogliamo lanciare mi dicevano che c'era una la canzone di Niccolò Agliardi il videoclip di Ostaggi così poi magari spezziamo un attimo con un po' di musica se è pronta l'ascoltiamo insieme è il potere di un giorno ribelle che nessuno sa bene cos'è o una strana assemblea delle stelle che decidono sopra di te come ti va dimmi come dimmi come fronteggi il silenzio di chi avrebbe dovuto parlare o le mille parole di troppo quando scusa era quella da dire come ti va dimmi come ti va mentre guardiamo da qui il mondo fuori da qui dove si mischiano i buoni i cattivi e persino quelli così e così ognuno tiene in tasca il suo colore è il suo creatore è il suo creatore che non ha pietà e ognuno sa come sentirsi solo come fallire senza dignità hai pensato che fosse finita molto prima di credere che che la vita risponde alla vita quando non sa rispondere a te come ti va dimmi come dimmi come sopporti l'impegno e non come ti lasci fregare perché in quello non prendo lezioni tutto il resto lo voglio imparare come ti va dimmi come ti va mentre guardiamo da qui il mondo fuori da qui dove si mischiano i buoni i cattivi e persino quelli così e così ognuno tiene in tasca il suo colore è il suo creatore che non ha pietà e ognuno sa come sentirsi solo come fallire senza dignità sotto quale lenzuola ti perdi e in che letto ti vai a riposare se la morte ti tiene in ostaggio o sei tu che ci hai fatto un affare come ti va come ti va come ti va se la morte ti tiene in ostaggio o sei tu che la lasci giocare mentre guardiamo da qui il mondo fuori da qui dove si mischiano i buoni cattivi e persino cattivi e persino gente così e così ma una risata è la rivoluzione l'anestesia che bella Nicolò grazie mille intanto da avercela fatta ascoltare devo guardare la telecamera se no ti do alle spalle ti chiedo scusa come hai lavorato questa canzone a questa storia e a queste emozioni? devo dire che le mie incursioni nel cinema sono sempre più frequenti e sempre meno casuali allora giocando a carte scoperte confesso che il gancio iniziale è sempre la mia amata Vanessa che quando insomma oramai siamo un sodalizio da qualche da un paio d'anni insomma lavoriamo spesso insieme quindi quando mi hanno proposto di lavorare su un film dove c'era Vanessa insomma già di per sé era una cosa che mi aveva messo di buon umore poi ho conosciuto Eleonora e D'Angelo e mi hanno raccontato la loro storia se c'è una cosa che mi piace fare proprio ultimamente è quella di abbandonare un po' le mie storie e seguire e ascoltare quelle degli altri qualche volta personali qualche volta invece in forma di finzione in forma di cinema in forma di racconto trasversale ecco Ostaggi per me è stato questo è stata ancora una volta la voglia di provare ad ascoltare e guardare il lavoro degli altri e provare a inserirmi dentro ovviamente poi leggendolo a modo mio per cui per me Ostaggi è come diceva giustamente già Marco che ognuno di noi è in qualche modo obbligato a qualcosa e forse anche la libertà non è altro che scegliere da che cosa dipendere e quindi io ogni tanto credo di essere insomma anzi spesso penso di essere un uomo fortunato che ha la possibilità di fare tante cose tanti lavori e lavorare con gente clamorosamente come dire brava come le persone che ho oggi al fianco e sapere che dipendo dalle mie passioni ecco e di queste per fortuna non mi sento ostaggio e anzi mi sento un grande privilegiato che belle cose grazie scusa mi aggiungo perché poi dopo non voglio più levare la parola a nessuno il video ha una regia che è una regia di un giovane regista si chiama Giulio Volpe e tutta la colonna sonora quella che accompagna nei momenti del film è scritta e realizzata dai fratelli Ruggeri che sono due grandi alleati da sempre e la canzone l'ho scritta insieme a Dune Roberts e Giordano Colombo e qui ho terminato no no puoi intervenire quando vuoi grazie perché così insomma è giusto dare appunto spazio anche a tutti quelli che lavorano con te e allora proseguiamo un po' con nello svelare questi caratteri iniziamo con Francesco magari il panettiere che si ritrova lui vuole Francesco tu vendi il pane però poi all'improvviso in realtà qualcosa va decisamente storto serviva un panettiere un po' rotondetto e diciamo non grande coraggio anzi un po' vigliacchetto anche pavido e non è un personaggio positivo non positivissimo se possiamo dirlo però la bellezza di far l'attore è proprio quello è certo di interpretare personaggi che sono diversi da come siamo noi nella vita devo dire che siamo stati anche fortunati e privilegiati perché la sceneggiatura viene dallo spettacolo teatrale quindi le battute che dovevamo dire noi erano state studiate pensate valutate e rilette e rilette quindi non c'era niente da cambiare oltretutto le battute che noi dicevamo svelavano i caratteri dei personaggi perché la cosa più bella di questo film è il disagio sociale familiare emotivo che provano ognuno dei loro personaggi ognuno dei nostri personaggi dentro questa panetteria in una situazione così a limite e pericolosa e lì escono fuori veramente i caratteri dei personaggi e così poi tra l'altro giustamente Angelo mi aiutava a riflettere anche sul tema della solidarietà che è molto importante che si crea non tra tutti gli ostaggi però insomma probabilmente si crea a maggior ragione tra il personaggio di Ionis e della signora e della signora Elena possiamo andare avanti sì sì ok scusate non è un caso che sia un negozio di panetteria perché il pane è l'elemento principale del nutrimento della vita e devo dire che le parole della canzone di Nicolò hanno sottolineato molto quel tipo di solidarietà che si crea tra le persone che hanno si riconoscono possedere uno stesso disagio e quindi quando abbiamo sentito la canzone Nicolò ci siamo resi conto che anche questa cosa del gesto come dire evangelico dello spezzare il pane e versare il vino aveva una portata proprio di testo importante devo dire che la prima volta che Nicolò mi ha fatto ascoltare questa canzone mi sono veramente tanto emozionata tanto scossa perché ha identificato la questione principale del film ci sono dei versi meravigliosi come quello principale che dice dammi del vino che ti porto il pane così come ognuno tiene in tasca il suo dolore e il suo creatore che non ha pietà ognuno sa come sentirsi solo che è un po' l'emblema dei personaggi ognuno ognuno ha un dolore al quale ribellarsi nel quale è ostaggio e dal quale si vuole in un qualche modo all'interno di questa panetteria nella ribellione di ognuno di loro emancipare però non mi aveva risposto il giorno che gli ho mandato la canzone e ha aspettato 24 ore non è vero l'ho chiamato gli ho detto è bellissimo non subito non subito non subito poi lascio ovviamente come dice Nicolò la parola non voglio essere però sono molto orgogliosa di quello che sento ho una grande emozione perché Nicolò è un mio carissimo amico una persona no ascolta poi noi abbiamo abbiamo tempo era una persona che si è entrato a far parte di questo progetto niente succede a caso doveva entrare qua per me e per gli altri e sapere che i registi gli sceneggiatori hanno questo hanno sentito questo per me è una conferma di tante cose quindi adesso non parliamo più di me adesso Micheto mi mettete in soggezione è inevitabile Nicolò siamo una famiglia una squadra quindi è inevitabile allora Ionis e Elena solidarietà chi vuole chi vuole iniziare forse Ionis la signora Elena come descriverebbe il suo personaggio prima l'ha descritto se posso dirlo quando ci siamo incontrate per le interviste in una maniera che non mi sarei aspettata io l'ho trovata ho trovato un personaggio così dolce allo stesso tempo alla fine così fermo mi piacerebbe sapere che cosa ho detto no ha raccontato capisci perché anche lei poteva essere solo regina no scherzi a parte io parlo a braccia sempre non mi preparo mai nessun discorso diciamo così sulla quotidianità e sulla semplicità del personaggio in realtà io trovo che il suo personaggio sia focale tra gli ostaggi sia molto importante ma forse è quello più scopertamente umano non c'è niente da fare ha una fragilità nella sua esistenza molto pesante da reggere beh poi tra l'altro è una condizione abbastanza comune lei praticamente esprime una normalità di una persona assolutamente qualunque e come ce ne sono tante si trova coinvolta e lì devo dire che riesce a tirar fuori una dignità una grinta una decisamente carattere sì 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 che mette tutti in linea perché ed è per questo che mi è piaciuto il personaggio anche perché forse potrei essere io attenzione senza dubbio Ioni se poi non ho niente da aggiungere e poi Alessandro mi dispiace ci siamo in tanti poi dobbiamo già dare la parola ai colleghi che sono in attesa Ionis beh devo dire che insomma lei è la persona che comunque mi accoglie da subito bene anche se anche se Ambra insomma mi sostiene insomma in qualche maniera con lei nasce un feeling particolare e devo dire che questa cosa a tal punto che anche quando l'ho fatto in teatro io spesso mi commuovo mentre giravamo per le scene che avvenivano quindi vuol dire questo questo spiega quanto sia ben diciamo sia ben strutturata la 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 scrittura e la ricerca dei dialoghi e del rapporto tra personaggi e quanto siano ben scavati i personaggi perché poi alla fine tu senti quello mentre sei lì e io a teatro mi commuovevo e io quando l'altro giorno ho visto il film quando l'ho visto io mi sono commosso nel rapporto con lei mi sono commosso anche nel momento in cui la figlia di Gianmarco chiama Gianmarco quindi diciamo questo la particolarità dell'insieme è che comunque il tutto sprigiona tante emozioni anche molto diverse tra loro e il mio personaggio ovviamente è un disperato insomma che arriva con un barcone dall'altra parte dell'oceano e quindi una cosa che noi conosciamo è sotto tutti i nostri occhi e qui appunto è una delle delle tante disperazioni del nostro tempo diciamo sono contento perché comunque in questo momento particolare in cui appunto c'è anche una certa diciamo difficoltà ad accettare questa roba qui sono contento che questo film che racconta tante disperazioni diciamo che racconta anche diciamo anche questa valenza di piccola denuncia della distrazione e riesce a raccontare anche nei rapporti singoli personali con ognuno di loro come tanti magari si comportano nei confronti di uno che ha fatto la mia vita che viene da un paese dove c'è guerra e scappa da quello e non se ne accorgono perché appunto spesso il perbenismo appunto ti fa solo difendere il tuo orticello ma non ti metti nella dimensione di un altro quindi c'è molta umanità e c'è molta emozione in questo film e devo dire che secondo me poi in una sala scatterebbe l'applauso alla fine secondo me scatterà in casa scatterà in casa purtroppo siamo abituati così voglio ricordare solo Cesare Bocci che ha fatto un cameo e la figlia di Gianmarco che fa sua figlia e per la prima volta lo dico dice delle cose carine no oltretutto molto più bello il rapporto sullo schermo no non è così devo essere sincero la più forte emozione per me durante questo film e ho capito quando venivo portato da mio padre sui set in realtà non è è molto egoistico in realtà non è la volontà di vedere loro non è una loro richiesta è l'egoismo tuo di voler giocare con loro sul set io oltre a emozionarmi ero veramente molto molto più attento a quello che faceva lei in quei giorni in cui ha girato che altro per lei la prima volta è un po' diciamo l'ho violentata ma quando ha parlato con Eleonora che gli ha proposto questa ipotesi di fare questa cosa insieme è una cosa insomma che lei ha accettato di fare non credo che sarà il suo futuro non credo che sia quello che voglia fare nella vita però sono molto felice di come l'ha fatto perché secondo me per essere la sua prima esperienza si è comportata molto bene e poi era con te quindi Alessandro Alessandro sì eccoci si è rispagliato abbia pazienza siete in tanti commissario tu rappresenti tu rappresenti la parte quella più negativa dello Stato lo possiamo dire diciamo che in una parola sola è una vera merda così parliamo chiaro di umano non c'è c'è poco insomma di tenero a differenza del suo personaggio insomma è un personaggio che ha avuto dei genitori probabilmente in affettivi solo e represso che sfoga questa sua repressione nel poter sparare a ogni costo non ha una voglia di aspettare vorrebbe intervenire entrare dentro la bottega del panettiere e probabilmente farli fuori tutti insomma probabilmente se non ci fosse lei che invece la psicologa che invece negoziatrice che non mi permetteremo è molto bello il conflitto tra di voi è molto bello il conflitto tra questi due personaggi che in realtà poi io trovo che Alessandra ha saputo regalare invece un fondo di debolezza di fragilità maschile è assolutamente spaesato di fronte alla tua forza questa sua volontà di voler contestare e reprimere anche il personaggio della negoziatrice in realtà ci sono un paio di momenti in cui lui mi sono emozionata io in un paio di momenti in cui vedo che la verità della sua espressione nel capire la sconfitta nel capire che il suo comportamento comunque non l'ha portata ad ottenere niente e esprime la sua umanità se ci fosse una continuazione del film probabilmente dopo i tuoi interventi nei miei confronti il commissario alla fine ma chissà chissà che Longoni e Ivoni non stiano già pensando ostaggi 2 ostaggi 2 va bene allora diamo la parola ai colleghi che ci stanno seguendo la prima è Emanuela Castellini buongiorno Emanuela mi sentite? ti sentiamo prego buongiorno buongiorno che bello rivedervi soprattutto la Vanessa che io amo e lei lo sa per cui senza tagliere niente a nessuno allora io chiedo scusa ma non sono riuscita a vedere il film perché sono imbranata e non ce l'ho fatta per cui sono come i miei ascoltatori di Radio Rai e i miei lettori per cui devo incuriosirli allora Vanessa intanto il tuo personaggio qual è la caratteristica principale che ti ha fatto decidere di girare questa credo bella commedia e poi i tre aggettivi per definirla se si può grazie allora tre aggettivi coraggiosa coraggiosa sarcastica e ironica e protettiva te ne ho messo un altro va te ne ho aggiunto un altro queste sono caratteristiche di Ambra che io amo che che me le sono fatte anche mie mi appartiene cioè Vanessa ha anche queste caratteristiche però lei mi ha rafforzato su tante cose ed è un personaggio che ha un dono che è il capire chi è davanti ha questa sensibilità di capire di come rapportarsi con chi è davanti con ognuno in questo caso lo fa in una maniera molto diversa con Regina è molto protettiva come ho detto prima con Ionis è un rapporto non è freddo è più di comprensione con il panettiere è di un dispregio totale ma è un amore proprio alla grande solo amore che arriva all'odio e con Marco non posso dire che cosa scatta un qualcosa che lascio agli spettatori che dicano che cosa è che scatta per cui è un bel personaggio che ti permette di spaziare con tante sfaccettature è pieno di sfaccettature ma anche il suo ecco in cui l'ho imparato da Ambra lei è molto anche col corpo gioca molto col corpo è molto presente con il suo corpo cosa che Vanessa è un po' più sono un po' più timida da quel punto di vista quindi da quel punto di vista ho lavorato su un personaggio che anche nel modo di camminare era molto dire io sono qui e io sono presente quindi per me quello è stato forse è il più lavoro più difficoltoso tirare fuori questa forza fisica che Vanessa in realtà ha caratterialmente ma la fa vedere in un'altra maniera non attraverso la fisicità anche se non me l'ha chiesto io oserei dire che il personaggio di Ambra quando lo costruivamo le chiedevo di essere quasi spavalda maschile un po' come fanno i maschi quando anche da ragazzini vanno a fare chi guarda chi sono io e questa cosa qui mi piaceva tantissimo perché poi lo riesco a fare ma se porto i jeans infatti io nella vita mi vesto larga maglioncioni larghi così ci riesco ma col tacco e la gonna e la camicia mi diventa un po' più difficile perché viene fuori quella timidezza che è in me ma in realtà no in fondo c'è benissimo grazie grazie ciao Emanuela ora diamo la parola a Giulia Calvani Giulia ci senti buongiorno a tutti sì sì ci sono ci sono vai buongiorno a tutti ciao Giulia piacere essere qui con voi innanzitutto complimenti perché credo sia veramente un piccolo gioiellino necessario in questo momento di pseudonormalità ecco che ci siamo ritrovati a vivere sono orgogliosissima grazie grazie a voi ho una domanda in realtà una per tutto il cast e l'altra per la regista quindi per per la regista chiedo c'è molto di Jackie Brown di Bonnie e Clyde Pretty Woman Un pomeriggio di un giorno da cani quindi un omaggio proprio al cinema americano che percorso è stato tracciato quali tipi di di influenze che hanno portato a questa decisione invece per il cast insomma non so se se faccio tutto insieme così magari vi organizzate senza togliervi troppo tempo per il cast invece una domanda insomma molto più personale all'inizio tutte le scene descrivano quasi una rottura della quarta parete in cui vi annunciate insomma vi scoprite davanti allo spettatore e dite appunto che siete stanchi di che cosa siete stanchi personalmente personalmente hai chiesto scusami di che cosa ok Eleonora vuoi iniziare tu visto che era allora sicuramente la caratteristica di questo di questa sceneggiatura è quella propria di attingere a due generi no sia quello action che quello della commedia l'impianto drammaturgico che aveva la storia già evidenziava no Angelo queste due caratteristiche noi le abbiamo solo come dire e allargate e si resa cinematografica e le abbiamo amplificate ecco scusami non mi non mi veniva l'aggettivo le abbiamo amplificate e grazie anche a come dire al luogo dove abbiamo girato che ci ha permesso di creare questa continua entrare uscire e questa necessità che io sentivo di avere tanti tagli tante inquadrature per avere un ritmo che desse vigore a questa visione che avevo scusate ma io devo andare nel senso che un appuntamento è previsto scusatemi no però se va via il commissario cade tutto allora esatto a niente ma avevano chiesto di che cosa eravate personalmente stufi se vuoi Alessandro stanco stanco esatto stanco di questa situazione così ma insomma stanco di di non poter veramente di abbracciare ma di vedere l'espressione delle persone vedere le facce siamo tutti ormai omologati siamo tutti ormai è un disastro insomma non riconosco faccio fatica a riconoscere mia figlia quando pare mi sega sono celeste papà insomma le espressioni insomma mi mancano tanto mi mancano e non è mio non avete sentito niente di quello che ho detto non avete sentito niente allora ripeti tu Ionis di cosa è stanco Alessandro no no lo dobbiamo salutare ho preso ancora anche di lavoro tra l'altro no no certo dobbiamo salutare Alessandro grazie mi è dispiaciuto in questo film di poter interagire con questi attori meravigliosi che conosco da anni mi è proprio dispiaciuto comunicare con loro perché sarebbe stata una bella danza ecco diciamo e ci sarà occasione è un film è molto bello è un film tragicomico sono più di commedia è proprio un film tragicomico mi piace tanto mi piace tanto bravissimo sono grazie grazie è una di quelle similitudini che uno trova tra il personaggio e se stesso sono stanco come personaggio di un sistema che non ti aiuta di un paese che ti fa fare sempre grande difficoltà a risolvere anche delle cose semplici dove burocraticamente tutto viene dilatato in tempi che sono contrapposti alla velocità che viviamo nella nostra vita comune e quindi devo dire che ho trovato in quel sono stanco le stesse stanchezze che certe volte magari non rivelo come rivela il personaggio e tutti i nostri personaggi all'inizio del film ma che penso in continuazione vorrei come dire un paese che fosse molto più attento e molto più presente molto più rapido nel sostenere chi ha difficoltà bravo Gianmarco Vanessa Elena Ionis e Francesco anche voi di cosa siete stanchi e stufi Elena è stanca di una routine molto bene esemplificata nel fatto di il cane che è proprio uno dei gesti più che danno la quotidianità gli appuntamenti obbligati a una certa ora bisogna portare fuori il cane e la pignola precisa per cui anche tutte queste rivoluzionamento nella sua vita la scuote quanto maggiormente questa è la stanchezza senza diffondermi in troppe semplicemente questa la stanchezza di una quotidianità di una banalità di una non dico miseria anche se poi la denuncia ma sicuramente qualcosa di abbastanza grigio monotone Vanessa se parlo in prima persona cioè se parlo in prima o sono stanca di avere paura delle mie paure oh così ma la capiamo la capiamo se capisce allora ci vorrebbero ore per far questa capire il perché ognuno lascia la scelta di capire il perché ma sono stanca di questo ma credo che convivrò tutta la vita con questa cosa quindi è inutile che lotti contro un qualcosa che che non potrò lottare anzi devo forse imparare ad abbracciare questa paura e dire vabbè ci sei anche tu nella mia vita dai no invece di di litigarci questa è un po' la mia parlo su di me poi se parliamo in generale ovvio di altre cose ma se parlo su di me questa benissimo Francesco beh esatto il fatto di che tutti i personaggi all'inizio del film dicano io sono già stanco no è quello che accomuna i personaggi che hanno tutti un disagio e non sa ancora cosa li aspetta perché esattamente sono già stanchi ancora prima delle avventure del film e questo è quello che accomuna un po' tutti noi noi siamo stanchi di vivere così mascherati come diceva Haber prima di avere limitazioni nei rapporti sociali il lavoro e noi siamo già fortunati perché c'è tanta gente che invece ha sofferto le tragedie non solo i morti e le famiglie eccetera ma anche gente che ha perso il lavoro e non lo ritrova più insomma non è facile soprattutto nel nostro mondo e noi parliamo del nostro mondo dello spettacolo tante famiglie a disagio chi fa teatro cinema insomma gli spettacoli dal vivo i concerti speriamo che si riprenda il più presto e quindi diciamo tutti i personaggi della commedia hanno tutti un disagio cioè nessuno vive felicemente no e l'operazione di Gianmarco che viene e tiene in ostaggio tutti cioè fa solo in modo che escano fuori le starchezze vere che noi abbiamo già da prima della pandemia Ionis il mio personaggio Ismail è stanco delle vessazioni è stanco di subire insomma come in qualche maniera rappresenta insomma tanti disperati che si aggirano per il mondo quindi stanchi di essere trattati male stanchi di essere respinti quando insomma comunque il fenomeno migratorio è un fenomeno naturale umano quindi insomma mi sembra assurdo che ancora ne stiamo oggi qui a parlare Ionis invece personalmente è stanco sicuramente del momento di non abbracciare di non invedere amici a cena che per me è una delle cose più rilassanti della mia vita e devo dire che è stata una cosa molto positiva perché è vero che appunto Alessandro non ci siamo visti ma poi alla fine abbiamo condiviso delle belle dimensioni serali molto più con Francesco ma anche con gli altri quindi sicuramente questa quindi mi manca questa la condivisione e diciamo sono stanco delle ingiustizie stanco sicuramente di come di un paese non meritocratico diciamo dove le cose vanno in direzioni che strane che tu ogni volta dici ma veramente è così folle questo nostro paese cioè in generale sicuramente diciamo anche negli altri paesi ma io vivo qua e quindi noto che quindi diciamo stanco del fatto che la gente non vada avanti per merito ecco allora certo parlavo di me non volevo essere ma forse siamo anche molto stanchi di nel 2021 ancora ad oggi affrontare degli argomenti no ascoltare delle cose nel 2021 dovremmo proprio già avere dovremmo essere altrove altrove e tuttora parliamo di omosessualità e parliamo di cioè queste cose secondo me dovrebbero già essere del razzismo cioè veramente per me è quella la follia che dici ma ancora siamo lì ancora dove ecco scusatemi sono aggregata perché ho parlato di me ma questo credo che dovrebbe essere un allarme enorme per il mondo per certi versi mi sembra che forse per alcune cose forse siamo anche un pelino tornati indietro mi sembra perché alcune le situazioni difficili poi hanno creato più rabbia nella gente quindi queste cose poi vengono amplificate in tanti siamo tutti riduci da un anno difficile allora la parola a Mattia Pasquini Mattia eccoci scusate eccoci prego mi ero un apposto allora la domanda era per Vanessa buongiorno a tutti intanto buongiorno si è appena dichiarata stanca delle sue paure andavo a giocare un terreno che non dovevo ma no non vado lì non vado lì non vado lì sei tranquilla ok ti fermo penso piuttosto al personaggio a tutti i personaggi che mi sembra che sta interpretando anche nei prossimi prossimi impegni che ti aspettano per cui sempre donne emancipate volitive forti invece mi interessava se ti andava di parlarmi un po' del tuo progetto delle storie di Neva perché mi sembra che ci sia un altro tipo di reazione più 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 dolce non so lì dicevi che sei stufa del cinismo ecco invece di tenere paura prendiamo le storie di Neva perché anche io non me l'aspettavo questa cosa delle storie di Neva alle storie di Neva sto facendo praticamente su Instagram è da un mese e mezzo che ho creato Neva in realtà Neva è Vane no? ok e insieme a un'illustratrice amica mia che si chiama Alice Di Marco e a Riccardo Fara che è colui che gestisce il tutto abbiamo creato tramite è come il piccolo principe io sono un amante del piccolo principe infatti ci ho tatuato nel piede non so se si vede il cappello con l'effante del piccolo principe ovviamente non non potevo copiare quello e quindi insieme all'illustratrice Alice abbiamo creato questo mondo che è un piccolo principe in versione donna che potrei essere io ma non dove io ogni due settimane dedico e cerco di proporre una frase che ognuno la interpreti un po' come vuole sempre con dolcezza e sono è semplicemente un pensiero che do alle persone e quindi da lì nasce ovviamente mi hanno guardato tutti dicendo ma che cazzo è questo è questo in realtà è vano ammetto di non sapere no no ma infatti ho visto le vostre facce ma ringrazio lui perché realmente ne me lo aspettavo e mi hai lasciato cioè sono felice che questo questa creazione che abbiamo avuto di Neva sia arrivata ecco sì mi sembrava che appunto coerentemente fosse anche un modo diverso di reagire alle avversità insomma senza la solita credine sì io penso che uno può lottare anche con dolcezza non per forza bisogna fare la guerra con le armi no o perlomeno nella mia vita cerco di fare questo no cioè il dire quel che si vuole senza essere aggressivi io non amo l'aggressività ho paura ecco una delle mie paure è l'aggressività la violenza è un qualcosa che mi mette molto a disagio e purtroppo a volte quando non lo sai gestire puoi tirare fuori delle cose di te che non che poi ti puoi pentire anche quindi io l'aggressività la lascio non è che la lascio agli altri la bollerei a tutti purtroppo c'è gente che nasce aggressiva e morirà aggressiva che posso farci cercare di farlo e di dire le sue idee perché io voglio dire quello che penso siamo in dovere di dire quello che si pensa e si può fare in una maniera buona non aggressiva cosa che a volte chi ci governa non è stato o comunque lo fa in una maniera molto aggressiva e non funziona così è un mio parere quindi benissimo grazie andiamo con Giuseppe Gallo Giuseppe buongiorno buongiorno a tutti complimenti per il team volevo fare una domanda prima una domanda per tutti il cast e una domanda per gli sceneggiatori per tutti il cast volevo chiedere i vostri personaggi sono pieni di speccettature che vediamo poi uscire piano piano nelle relazioni fra loro ma nel loro inconscio ogni personaggio qual è la speccettatura che più prevale e poi per gli sceneggiatori volevo chiedere come avete fatto a bilanciare il lato tragico con il lato da commedia insomma grazie Gianmarco in Marco in questo momento specifico prevale il nervosismo e come dire e quel grado di non controllo che può avvenire in una persona che tendenzialmente ha un animo completamente diverso ma fa capire quanto anche una persona normale possa essere portata dall'esasperazione a fare qualcosa di inaspettato e completamente diverso dalla propria indole Vanessa mi sono persa che cosa del tuo personaggio avete tutti varie sfaccettature del tuo personaggio qual è l'indole più più predominante diciamo più forte è più predominante predominante scusatemi e come ho detto prima è il coraggio che ha questa donna è la forza è proprio una donna combattiva e combatteva e questo è credo la sfaccettatura madonna una parola verso l'altra difficilissima più forte più evidente di Ambra Elena praticamente mi ripeto perché la caratteristica più importante anche secondo me è la normalità di questa persona assolutamente la normalità non c'è non c'è altro da aggiungere no vorrei aggiungere una cosa che perché è una frase talmente bella che se posso condividerla mi fa piacere Voltaire diceva io non la penso come te ma darei la mia vita perché tu possa esprimere liberamente la tua opinione e mi riagganciavo a quello che hai detto è una frase stupenda allora Francesco Ionis la vostra Francesco è stato tutti i difetti infatti mi hai anticipata è pavido è tirchio è stronzo non siete stati gentili con Francesco però no non è vero aspetta aspetta continua a dire questa cosa ma non è vero ci fa anche per ridere ma però è più divertente per un attore fare i personaggi che hanno delle caratteristiche negative almeno io mi diverto di più che fare i buoni Ionis io faccio il buono c'è la dignità il personaggio e poi pesce non sale su alberi questo è fatto fondamentale cioè che comunque potrei anche fermarmi qua è il saggio del gruppo è il saggio decisamente un personaggio molto saggio è un personaggio molto saggio e devo dire che è una delle cose che sicuramente mi ha avvolto e coinvolto di più devo ringraziare Angelo in questa ricerca e poi insomma anche con Eleonora insomma abbiamo ne abbiamo parlato chiaramente nella modalità cinematografica è cambiata un po' la modalità diciamo di queste frasi perché chiaramente in teatro hanno una connotazione più hanno un'enfasi diversa anche forse più comica richiedevano un po' più tempo diciamo però ecco credo la dignità insomma anche insomma buono il personaggio buono prima di dare la linea Angelo come avete bilanciato io vorrei dire solo una cosa per quanto riguarda il personaggio di Francesco non è che sia così negativo è un uomo che risponde a una esigenza umana primaria che è il lavoro lui è un grande lavoratore lui se lo tiri fuori dal lavoro umanamente crolla ma ha questo come ideale e secondo me non è così negativo questo personaggio alla fine perché ha il suo orizzonte che è il lavoro detto questo volevo dire sull'altra domanda noi in Italia abbiamo una tradizione straordinaria di tragicomico e abbiamo qui il figlio di uno degli attori che ha raccontato questo paese insieme a tutti i registi della commedia l'italiana in cui si raccontano i difetti delle persone facendo sorridere perché il sorriso fa sì che lo spettatore si identifichi nei difetti della persona sullo schermo e riconosca ma questo riconosca anche se stesso in quei difetti ed è un meccanismo che dura da Molière a Goldoni cioè è un meccanismo che funziona scientifico sperimentato vedere Monicelli che è il nostro grande maestro ora dosare il tragico e il comico fa parte un po' della nostra tradizione c'è una tendenza adesso un po' snobistica in Italia a accantonare da una parte la commedia perché non è meritevole di un'attenzione come potrebbe essere il dramma ma purtroppo non è così nel senso che i francesi ce lo insegnano la commedia francese ci insegna che si possono raccontare storie straordinarie faccio cito le prenome o altri altri film che ci fanno divertire e pensare ecco questa è la caratteristica che un po' ho cercato sempre di fare nei miei lavori al cinema teatro eccetera e credo che sia riuscita anche in questo caso cioè l'unione della serietà e della commedia fa sì che lo spettatore riesca a immedesimarsi benissimo allora vi ringrazio ringrazio Angelo Longoni Gianmarco Tognazzi Vanessa Incondrada Leonora Evone Elena Cotta io sono in lista dall'inizio però se c'è da fare una seconda domanda volentieri certo io non vedo nessuno assolutamente non vedevamo nessuno noi non vediamo nessuno sullo schermo quindi è soltanto una questione di gestione e non sappiamo chi c'è da posso fare una domanda volevo sì faccia la domanda certo prego salve ci scusi Patrizia Simonetti spettacolomania scusate voi buongiorno a tutti ciao Patrizia ciao volevo sapere visto che questo mi sembra anche un film sui piani B mentre il piano B di Marco è evidentemente dettato dalla disperazione volevo capire il piano B invece di di Ambra che insomma da infermiera si è messa a fare la prostituta ma mi sembra allegramente quindi come se lo avesse scelto proprio non per disperazione quindi volevo capire un po' chi è Ambra da questo punto di vista mentre a panno fino volevo chiedere se può dirmi qualcosa una riflessione sulla campagna io sto con il doppiaggio intelligente visto che si parla di lavoro di cinema di sentirsi ostaggi di questa app israeliana che minaccia appunto di colonare le voci degli attori in tutte le lingue e quindi di tagliare fuori il doppiaggio soprattutto italiano che come sappiamo è una grande eccellenza tu sei uno dei testimonial di questa campagna grazie mille grazie a te scusaci ancora Vanessa infatti stavo confrontando dico secondo me è una cosa che dobbiamo dire entrambe io perché l'ho interpretato lei perché ovviamente lo ha fatto in realtà non è che ha fatto una scelta allegramente dice la 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 vado a farla c'è una battuta che la definisce su tutte quando deve aiutare il panettiere che è stato non diciamo cosa succede appunto dichiara la sua fragilità e la sua protesta da un punto di vista sociale cioè lei gli dice quando sono finita in terapia intensiva io quando ci sono stata io ho smesso di fare l'eroina per due soldi quindi questo cambiamento che lei decide nella sua vita è dettato da da un'analisi probabilmente forte che lei fa come infermiera diciamo esattamente può sembrare che essere finito in terapia intensiva ci sia andato come paziente no 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 è un'ex infermiera che decide poi di mantenersi facendo il mestiere più antico del mondo e lo fa con grande dignità probabilmente è una donna infatti è vero che ci sono momenti anche di tensione tra il panettiere e lei è una donna molto consapevole che lo fa con grande dignità si sottolinea questa cosa dignità perché un po' è quello che vuol dire lei secondo me è dire io ho scelto un qualcosa che subito è molto giudicabile ma perché devo abbassarmi o non posso avere dignità di me stessa con questo che sto scegliendo non so se si è capito ma penso di sì si si è capito decisamente Francesco invece vuoi rispondere tu alla domanda che ti aveva del doppiaggio quella è una app che si sono inventati e fa delle cose incredibili hanno messo la mia voce in un programma alla radio facendomi dire cose che non ho mai detto ma sembravo io proprio era impressionante e allora praticamente ipotizzano che si può utilizzare questa applicazione per doppiare i film però a questo punto non c'è bisogno di panno fino se George Clooney deve parlare in italiano lo clonano fanno l'app in italiano e lui parlerà con la sua voce in italiano se è così perfetta l'innovazione tecnologica io però penso che le emozioni è difficile che una macchina le possa ridare almeno per ora perché stanno anche ma gli effetti speciali riproducono le sembianze umane però ancora non è perfetta perché i muscoli della faccia di noi esseri umani sono molto complessa da riprodurre dal punto di vista tecnologico e soprattutto le emozioni come metti gli occhi quando dici le cose e per la voce è la stessa cosa io partecipo alla campagna del doppiaggio intelligente lanciata da Vicks Vocal che è un'associazione diciamo di doppiatori è un'istituzione e ho partecipato volentieri perché non mi sembra una bellissima idea ma non perché uno deve difendere il lavoro anche per quello ma soprattutto dal punto di vista di resa artistica non mi sembra l'ideale non è certo la tecnologia che potrà sostituire l'arte in tutti quanti le sue sfaccettature quindi bene se l'avanzamento tecnologico aiuta quello che noi facciamo non che lo venga a sostituire perché non troverà il favore della categoria anzi troverà sicuramente come dire una categoria pronta a contrastarli ottimo 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 allora rinnovo i saluti l'appuntamento è dal 15 maggio su Sky Prima Fila Premiere Ostaggi Angelo Longoni Gianmarco Tognazzi Vanessa Incontrada grazie mille Leonore Ibone Elena Cotta regista regista certo Ionis Bashir Francesco Pannofino e Niccolò Agliardi grazie mille grazie a tutti grazie a voi da casa io voglio chiudere con una frase della canzone che dice ma la risata è la rivoluzione è così grazie a tutti grazie arrivederci arrivederci situazione